Tutto da rifare in casa centrodestra. Inutile sperare in una decisione unitaria che cada su quel nome tanto pronunciato Giandonato Morra. La questione ha cominciato a complicarsi soprattutto da quando l'onorevole Giuseppe Bellachioma, Lega, ha cominciato una sorta di trattativa con il leader di Futuroin, Paolo Gatti. Da lì la persona di Gatti è stata indicata da Bellachioma a quale miglior nome spendibile per il centrodestra, segnale di grande stima nei confronti di Gatti. Ma Gatti rifiuta e Bellachioma decide, peraltro autonomamente e scavalcando il coordinatore comunale Roberto Canzio, di proporre un proprio nome per la Lega e per il centrodestra. Il nome, che verrà reso noto ufficialmente del pomeriggio, è tuttavia trapelato. Si tratta di Lucio del Paggio. È su di lui che la Lega punta, dunque, pur riconoscendone la non appartenenza al partito, quale possibile candidato unico al posto di Giandonato Morra. Piacerà questo nome a tutti? Gatti compreso? Probabilmente a Gatti sì, perché ci sarebbe una sorta di accordo tra Bellachioma e lo stesso leader di Futuroin, per cui quest'ultimo avrebbe dalla Lega il placet per la candidatura a Regione. Nulla di strano in politica, basata anche in queste ore, su un do ut des a livello nazionale. Intanto a questo punto i civici, dalmati compresi, si riservano di decidere cosa fare. Se c'è una candidatura unitaria, bene, altrimenti valuteremo, spiega il coordinatore di azione politica, Rudy Di Stefano. Per noi non deve essere Morra a tutti i costi il candidato. Faremo le dovute valutazioni in base ai nomi che usciranno fuori. Corretto paralea plurale di nomi, perché non è da escludere che Paolo Gatti decida invece di tirar fuori dal cilindro un altro nome, tenuto segreto fino ad oggi. Insomma, tutto ancora da decidere.